La Regione Marche ha approvato importanti modifiche ad alcuni interventi del complemento di sviluppo rurale a favore delle aree interne montane. Ottimo il raddoppio del premio ad umilità per i possessori del cavallo del Catria, premio che passa da 200 euro a 400 euro per capo. Ha aumentato anche il premio per le razze ovine sopravvissane fabrianese che passa da 200 a 300 euro e per quanto riguarda l'agricoltura biologica invece al fine di permettere a più aziende di ricevere il premio è stato abbassato il carico uba che passa da 0,6 a 0,5 uba per ettaro. Inoltre sono stati aumentati i premi per tutti i gruppi culturali relativi alla misura di conversione al biologico e mantenimento del biologico. Inoltre per quanto riguarda le misure sul benessere animale è stato aumentato a 5 anni il periodo di impegno e raddoppiato il numero dei capi che possono ricevere il premio passando da 100 a 200 capi. Molto importante anche l'aumento del premio da 200 a 250 euro per le aziende seminative che si trovano in zone montane o svantaggiate, oltre che l'introduzione di un premio di 300 euro a dettaro per le aziende zootecniche sempre ubicate nelle zone montane e svantaggiate. La regione Marche sta ponendo davvero un'attenzione concreta all'agricoltura delle aree interne e per questo mi sento di ringraziare in primis il nostro presidente Francesco Acquaroli e l'assessore all'agricoltura Antonini, ben supportati da noi consiglieri di maggioranza della seconda commissione. Queste misure che abbiamo elencato e che abbiamo attuato daranno sicuramente una mano concreta agli agricoltori e agli allevatori e permetteranno di integrare i redditi delle loro aziende.